Sembra non trovar pace il castello di Oria, che dall'alto soverasta tutto il centro abitato e che non vive un periodo felice. Dopo il restauro per mano della famiglia romaninca Liandro, l'apertura al pubblico e le vicende giudiziarie che portarono nuovamente alla chiusura del maestoso maniero, ecco che giunge una notizia dal web. Il castello voluto da Federico II di Svevia è stato messo in vendita su un sito specializzato nella compravendita di beni immobili conosciuto su scala mondiale, Prestige MLS Luxury Real Estate. Il prezzo del maniero viaggia, come per altri immobili storici di lusso, sui 25 milioni di euro. All'acquisto dell'immobile pare siano interessati numerosi compratori provenienti da Russia, Cina e Medio Oriente, le uniche terre che in questo momento di crisi economica mondiale possono permettersi, grazie agli introiti provenienti dalla vendita di petrolio e gas, di pensare di acquistare un bene di così alto valore immobiliare. Tra questi non mancherebbero nemmeno alcune nobili casate, sia italiane sia straniere. Gente comunque che sarebbe disposta a comprare il maniero nonostante sia ancora posto sotto sequestro per delle presunte violazioni legate ai lavori di ristrutturazione del castello. Una vicenda su cui solo pochi mesi fa la Procura della Repubblica cominciò ad indagare per il sospetto di abusi edilizi perpetrati ai danni di un pezzo della storia italiana e non solo. Grazie a tutti.